E' un nuovo video che non vi potevo non caricare Perché oggi, o meglio, ieri sera sulla tarda serata Ho raggiunto finalmente il tanto atteso traguardo Il traguardo dei 30.000 iscritti E io ho detto no, non si può nel giorno in cui si raggiungono i 30.000 iscritti Non caricare nessun video Comunque, però, c'è un video C'era proprio questo piccolo inconveniente Quello è questo inconveniente che io sono ancora amato Anzi, sto forse anche un po' peggio di ieri Però, vabbè, sono andato a scuola e ho detto no, io un video devo farlo Quindi non ho potuto fare quei video tanto attesi, tanto aspettati Ecco, perché appunto per questo motivo Questo qua, diciamo, è un video di ringraziamento Ma non è lo speciale 30.000 Lo speciale 30.000, non so quando, ma vi posso assicurare Che arriverà in un futuro, si spera, il più vicino possibile Quindi non preoccupatevi Oggi sono qui a presentarvi quale video? Il video di un pimpane Un, si spera, un magico pimpale Con il palio quale giocatore Con il palio che lì in forma Che ho pagato 315.000 Ci ho fatto solo una partita Ma non mi sembra affatto male Quindi, boh, ho visto che era il giocatore più rinchiesto per i pimpale Poi ho detto Ho l'occasione di appunto farlo Di farlo oggi appunto Che dato che non mi sento ancora molto in forma È uno dei pochi video che posso fare Quindi ho detto E allora facciamolo Comunque ragazzi Adesso sono già qua E ho appena tweetato su Facebook Quindi aspettiamo gli inviti Vi ricordo di passare da FIFA Con interessi Siete interessati a comprare Cinti di FIFA E poi voglio chiedere questa piccola cosa Ragazzi Molti di voi dicono Allora c'è una parte di voi Che dice di fare durare di più i pimpale Però c'è anche altra gente Che dice Ah se fai durare di meno Taglia la parte In cui scegli lo sfidante Ragazzi Questa cosa è una cosa abbastanza Ambigua Perché io Ho degli iscritti Che non crederebbero mai Ma manco molti Che io facessi dei pimpale regolari Se appunto Toglierei questa parte Però ho visto anche Che ci sono altri youtuber Che non la mettono E non gli dicono niente Quindi ragazzi Fatemi sapere cosa volete Ecco però ovviamente Dovrete andare sulla fiducia Fatemelo sapere Comunque Adesso mi stanno arrivando gli inviti E accetterei il prossimo Dai Vediamo chi è il prossimo Questo qua Accettiamo Non mi ricordo Se l'ho già sfidato Non mi sembra Però non mi ricordo Oh io chiedo di Non invitarmi Se mi avete già sfidato Quindi spero che appunto Questo giocatore Io non l'abbia mai sfidato E andiamo ad invitarlo Azz Lagga un po' Però Boh Speriamo che tutto vada bene Facciamo di cambiare maglia Via Ci siamo ragazzi Facciamo gioca Ecco Spero che appunto Non abbia mai giocato Contro questo sfidante Io chiedo di non invitarmi Se ti è disagiato contro di me Comunque Utilizza Una serie A Con un giocatore Che non c'entra niente Che è Kabul Minghe Va bene Dai Quindi questa qua Sarà la squadra Del nostro avversario Mi sa ragazzi Che non si è sentito niente Di questa prima parte Perché avevo il volume Del microfono Del microfono Che utilizzo A zero Tipo A tre Quindi Mi scuso se non si sente niente Ma noi partiamo malissimo No 1-2 Starridge Starridge fammelo sto e lo fa pensavo uscisse Starridge 1-0 dai 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 citazione Allegri madonna Starridge Starridge col numero non la chiude e vabbè chiusa dai Le Bruyne la mette in mezzo c'è Benazia che non ci arriva col colpo di testa che lini no l'ha passata loro I can't believe it ancora la passo a loro no 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 così no sì no dai no così no così no così no non ci posso credere 2-1 per lui e il Sharawy che fa gol di testa ma dove ma dove e la passa ancora indietro Sterling The Bruyne The Bruyne non gliela ma non ci posso credere dai dai N'angolan dai N'angolan parata o non vuole entrare non vuole entrare Starridge no 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 sì madonna se non fosse entrata oddio dai 2-2 e non possiamo perderla questa vai Starridge dai Starridge dobbiamo chiuderla dobbiamo chiuderla dobbiamo chiuderla non la chiudiamo di là Starridge 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 la mette Starridge la mette ci deve essere qualcuno vai Miralias vai Miralias oddio lo vede Starridge Starridge chiudimela sta cazzo di partita dario 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 oh adesso e adesso e sono caldo io con la fegna e sono caldo perché ma che cos'è non ci credo dai abbiamo 15 minuti per fare i gol e io lo vado a fare e mi dispiace devo andare e mi dispiace devo andare ci sto andando con Starridge proprio adesso non so se l'hai visto non so se l'hai visto 3-2 3-2 di Starridge 3-2 di Starridge dai sì e l'ha detto anche Fabio dovrebbe essere regolare ops 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 chiudiamo l'abbiamo chiusa e c'è il gol 4-2 yes e abbiamo vinto ragazzi 4-2 partita abbastanza tesa ma se devo essere sincero ha fatto un gol ha bastato deve bastare al portiere quindi ci sta un po' di mia vittoria dai quindi boh spero che i video vi sia piaciuto mi riscuso appunto di essermi presentato così però appunto come ho già detto molte tre veci volte ho la febbre oh non è fuori gioco non è fuori gioco di Starridge sì madonna sterling ancora no ma io non ci credo estrando a volume tre percentile quindi una cosa abbastanza tattica e quindi ragazzi grazie mille per i 30 mila io non sto qua a fare i salati sdolcinati anche perché non le so fare nei temi la mia media è 5 o meglio era quest'anno molto meglio e quindi vi dico solo grazie mille e spero che ovviamente questo sogno vada avanti il più possibile e quindi detto questo vi saluto e vi dico potente a farci nel prossimo video bolla